Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, un momento particolare che vive Taranto, si è in attesa dei provvedimenti del sindaco che ha paventato un'ordinanza di chiusura, ci sono le elezioni dell'RSU, insomma il momento è particolarmente caldo. Sì, un momento molto confuso, di tanta confusione, tra l'altro con il rischio serio che di cui a breve ci sia l'ordinanza del sindaco, che sarebbe un fatto politico senza precedenti. Con le elezioni dell'RSU qui in ballo, cioè paradossale, però c'è un'organizzazione che ha deciso di indire le elezioni in un momento secondo noi completamente sbagliato, visto che c'era anche il ricorso ex articolo 28 in piedi, quindi la possibilità eventuale di vincere il ricorso e ipotizzare il rientro di alcuni lavoratori. Chiaramente se il sindaco emettere un'ordinanza, dal nostro punto di vista sarebbe veramente stupido andare a votare, anzi io lo vedrei quasi come uno schiaffo alla città di Taranto, una sfida, non ci interessa di quello che pensa la collettività, noi andiamo avanti. Quindi come organizzazione sindacale, se quell'ordinanza dovesse essere emessa, secondo noi non si dovrebbero svolgere le elezioni. Ecco, i rapporti con le altre sigle sindacali. Abbiamo letto alcune esternazioni della FIM CISL, in cui non si fanno riferimenti diretti, non viene nominato il sindacato, ma almeno per quello che mi consta sembra che vi siano dei riferimenti all'USB. Ci sono state delle allusioni quasi di una certa commistione. A cosa si potevano riferire? Sì, allora, questi hanno purtroppo il brutto vizio di pensare che se noi non rispondiamo è perché noi non rispondiamo, uno per questione di tempo, due perché non vogliamo fare polemiche. Tra l'altro, Popola Cisle è l'ultima sulla faccia della terra che può parlare per come è andata tutta la vicenda legata alla trattativa di Assormittale e all'assunzione dei lavoratori. Mi spiace constatare che, pur non nominandoci, sostanzialmente in alcuni volantini, in alcune dichiarazioni, partendo da Marco Venditori, il segretario nazionale che è stato in visita all'USB parla di commistioni di alcuni sindacati. Ce l'ha con noi, lo dico io, perché non c'hanno neanche il coraggio di dire che ce l'hanno con noi. A cosa alludeva? Allude al fatto che prima della lista dei nomi a ottobre, ma io non ho fatto mistero, l'ho detto tranquillamente di fronte a tutti, durante una riunione io dissi che l'azienda doveva tenere presente i casi eccezionali, tutti quei dipendenti che hanno situazioni particolari e quindi tentare di tutelarli. Parliamo dei casi delle persone che sostanzialmente facevano prima cassa integrazione perché avevano uno stato di saluto particolare, quindi casi limite, gente che comunque alla fine aveva pagato a causa di infortuni all'interno della fabbrica. Quindi lì tra l'altro mi sono permesso di ribadire quanto è già contenuto nella legge. Tu sai benissimo che l'azienda non ha l'obbligo di assumere le categorie proteste. Allora siccome noi abbiamo fabbricato centinaia di infortuni gravissime all'interno di quella fabbrica, diciamo la commissione secondo questi personaggi sarebbe il fatto che da sindacalista, da collega di quei lavoratori ho speso una parola in favore loro, che non è stata manco ascoltata perché la stragranda maggioranza di questi sta pure fuori tra l'altro. Però come dire, bisogna, ecco a un certo punto probabilmente siccome loro si illudono perché il fatto vero qual è? Diciamo la CISL, la FEMCISL ormai da tempo si è autoconvinta che andrà a superare la UIL che storicamente è il primo sindacato all'interno della fabbrica e anche qua io non capisco, a un certo punto attaccate la UIL perché attaccate noi? Cioè noi stiamo tranquilli per i fatti nostri. Forse la vostra scessa alla luce della sentenza fa paura? Senti, non lo so, io so solamente un sindacalista che si può definire tali, o almeno uno di quelli che rappresenta i lavoratori rispetto ad una sentenza, anche fatta da un altro sindacato, che ti dà la possibilità di far entrare anche un solo lavoratore dovrebbe essere contento. Io non ho fatto nessuna polemica, ho anche chiamato e gli ho detto che c'era la disponibilità a chiudere tutto in bellezza facendo un accordo sindacale, anche qua specifico, perché qualcuno si è andato a sciacquare la bocca dicendo, Franco Rizzo l'USB sta chiedendo aiuto per fare l'accordo sindacale. No, allora il punto è questo c'è una sentenza del Tribunale, del giudice, per l'unico soggetto che può chiedere la non applicazione eventuale di quella sentenza è ricorrente, cioè l'USB. Quindi in realtà non è che noi abbiamo bisogno di fare un accordo sindacale con le altre organizzazioni, basterebbe fare un accordo fra noi e Arcelor Mittal. Io ho chiamato tutti perché secondo me questa vicenda non doveva dire colori o bandire, al netto del fatto che l'USB è quella che ha fatto ricorso tant'è vero che di fronte al giudice alla domanda il ricorso è per gli iscritti dell'USB, io ho risposto chiaramente no, è per gli iscritti dell'USB, gli iscritti delle altre organizzazioni e anche per i non iscritti. Quindi il giudice poi ha precisato quindi per tutti i lavoratori, certo, per tutti i lavoratori noi abbiamo fatto ricorso per chiedere giustizia. Un sindacato che si rispetti dovrebbe essere contento perché c'è un lavoratore in più, anche uno in più, che sta rientrando. Il paradosso qual è? Che la FEMCISL è quella che, i delegati della FEMCISL sono quelli che hanno fatto girare il volantino di Arcelor Mittal in cui dicevano a Arcelor Mittal con un gioco di parola abbiamo vinto la causa. Cioè è paradossale sta cosa, no? Perché poi a un certo punto io dico vabbè ma a questo punto chi rappresentate se invece di far girare le notizie vere fate girare quei comunicati stampa fasulli che fa l'azienda però qua c'è tutta una spiegazione, c'è tutta una storia dietro, io poi alla fine la cosa che non concepisco è ecco perché noi stiamo tranquilli per i fatti nostri, perché ci stuzzicate? Cioè qual è il problema? Tanto noi non vinceremo le elezioni, lo sappiamo. Perché venire a battere sull'USB dicendo tra l'altro che noi siamo un sindacato con tutta sta storia che siamo, come dire, siamo il sindacato di Emiliano così con la destra e sinistra. Parte il fatto che non mi risulta che Emiliano si è mai messo un fazzoletto dell'USB e ha partecipato alla manifestazione. Calenda invece l'ha fatto con quello della CISL, ci sono pure le fotografie come dire che tutti vedono. Il fatto stesso che poi io faccio il rappresentante di 5.000 iscritti a Taranto dell'USB abbia rapporti col Presidente della Regione, anche amichevoli, non lo nego, ma finalizzati a che cosa? A migliorare le condizioni dei lavoratori, che non solo sono quelli dell'ILVA, lo chiarisco. Qui invece, siccome c'è un attacco nei confronti, questi vanno dicendo che noi facciamo anche le campagne elettorali, ma come dicevano che facciamo la campagna elettorale a Melucci, poi l'hanno detta ai 5 Stelle, cioè noi facciamo, non posso dire una parolaccia, facciamola di tutti, si dice a tarda di solito. Ci sono stati anche riferimenti, altre battutine, altre critiche sul fatto che abbiate candidato un vostro rappresentante falvo nei quadri. Cosa c'è di strano in questo? Rispetto al fatto che facciamo un volantino nel 2016 in cui io stesso ho scritto che è una contraddizione avere un quadro che gestisce personale e che fa rappresentante di quei lavoratori, che potrebbe fare la contestazione disciplinare e poi dovrebbe fare la giustifica. Feci un po' tanta ironia e io l'ho preciso. Sì, noi abbiamo Falvo, Maurizio, quadro, che è una persona per bene. Il nostro dirigente, per essere candidato con noi, doveva avere due requisiti che il nostro ha, quello di qualcun altro non ha. Non essere indagato e non essere pregiudicato per gravi reati contro i lavoratori e contro l'ambiente. Tra l'altro Falvo non gestisce personale. Punto. Cioè, questo la spengo, la polemica, perché veramente è parassidario. Dovrebbe spiegare chi, tra le sue fila, ha dirigenti sindacali che sono condannati dal Tribunale di Taranto per reati contro i lavoratori. È paradossale e poi fanno i sindacalisti e vengono a fare la morale a noi. Vabbò, ma su questo stendiamo un velo petus. La cosa che mi fa rabbia è che si dice che dobbiamo raccontare la verità ai lavoratori, perché la Fimicese dice che noi abbiamo sempre raccontato la verità. E no, cara Fimicese, no, caro Valerio, non avete mai raccontato la verità. Io voglio ricordare solamente due episodi. Ci fu, dopo lo sciopero di ottobre, quello unitario, ci fu un consiglio di fabbrica. Noi arriviamo compatte a quel consiglio di fabbrica. A un certo punto bisognava stilare un documento per uscire da mandare al Ministero in cui si esprimeva la volontà degli arrestori e quindi dei lavoratori. Lì io ricordo che quel giorno praticamente il computer lo prese Ciccio Brigati della fiomma. Io gli dissi guarda scrivi tu che è meglio, perché sappiamo come dire che quando scrive la CISL si fanno parecchi giochi di parole in cui si dice tanto ma non si dice nulla. Scrivemmo un volantino, eravamo presenti io, Brigati, Pallini e Valerio Dallò che era presente quel giorno. Scrivemmo un volantino, la prima cosa che scrivemmo fu no al Job Act e a un certo punto quando finì di completare il volantino e bisognava come dire dargli un'occhiata, Valerio Dallò disse a noi, quindi io lo sto dicendo ma c'erano due testimoni presenti, no cancellate no al Job Act io ho qualche problema a fare quel tipo di volantino, scrivendo no al Job Act e tutti sappiamo perché non possono dire no al Job Act. Poi da lì i lavoratori si sono chiesti a un certo punto perché per mesi le organizzazioni andavano ognuno per conto proprio. Ebbè è chiaro, io feci il ragionamento anche alla Fiume e alla Wilm, gli dissi scusate ma per quale motivo io devo farmi? Devo essere al tavolo, devo fare un'unità fasulla basata sul fatto che mi faccio una trattativa a un certo punto, c'è un pezzo di sindacato che non ha problemi a sottoscrivere un accordo con il Job Act e questo è il primo problema, la prima cosa che non hanno mai dichiarato d'accordo e noi lo dico per abbattere i toni e per evitare casino all'interno della fabbrica, sta cosa ce la siamo tenuti dentro però come dire con tanto fastidio perché è chiaro che poi ti sidi invece di avere un alleato il rischio serio è che tu hai uno che è stato dall'altra parte ma prova ne è, e lo dico, anche qua è successo forse di fronte a 50-60 persone, l'ultimo incontro al ministero fatto col ministro Calenda in cui Sergio Belavita litigò di brutto con Calenda dicendogli guarda tu non sei più titolato, sei un ministro scatuto, tu non hai il diritto di portare avanti la trattativa quando litigammo, allora lì ci fu una scenetta guarda mi assumo la responsabilità, anzi dico agli amici della FEM, se sto dicendo una bugia mi querelate sia sulla prima cosa che anche su questo, vi dico pure chi metto come testimone a un certo punto, lì a un certo punto quando litigarono Calenda con Sergio Belavita, Calenda uscì fuori dalla stanza, noi stavamo raccogliendo le nostre cose, tutti i sindacalisti che stavano dentro e stavamo per andare via, di colpo Calenda rientro nella stanza, si avvicinò a Marco Bentivogli, puntandogli il dito disse tu mi avevi garantito che oggi si firmava l'accordo, ci fu un gelo totale, io ricordo che Palombella mi guardò, stavamo a distanza e fece un ghegno come dire, si sono scoperti gli altarini e che cosa si firmava quel giorno se si fosse firmato? Si firmava per l'assunzione di 10.000 dipendenti con il Jobs Act e 1.500 che andavano in Invitalia che avevano la garanzia solamente per due anni di poter lavorare per conto di Arsenal or Mittal, quindi senza nessun tipo di garanzia sostanzialmente, a differenza poi dell'accordo che abbiamo fatto che erano 17 senza il Jobs Act, quindi questa è la verità, allora dobbiamo raccontare la verità, raccontiamo la verità ai lavoratori, raccontiamo la verità che eravate disponibili a sottoscrivere l'accordo con il Jobs Act, a fare altri 10.000 precari dopo 20 anni di sofferenza all'interno della fabbrica e poi mi vengono a parlare di commissione con l'azienda, a noi dell'USB, cioè io faccio il segretario dell'USB e per fare attività sindacale sto in cassa integrazione da una vita e dobbiamo raccontare pure la storia dei permessi perché poi la CISL, la FIMI CISL deve spiegare, perché i lavoratori devono sapere una cosa, i lavoratori devono sapere che fra gli 8.200 all'interno della fabbrica c'è gente che non ha mai messo piede in fabbrica, noi abbiamo colleghi sconosciuti, devo fare i nomi per, ma non ce l'ho con le persone, Berrettini, Berrettini della CISL è un dipendente ILVA che per 20 anni è stato in distacco sindacale con i permessi sindacali che prima eriva e poi l'amministrazione straordinaria davano alla FIMI CISL e ce ne sono altri, la FIMI CISL addirittura ha staccato un altro ragazzo a cui vuole un mondo di bene, non è una questione personale e se ne è tenuto a Piazza Bettole a fare il giornalista con i permessi sindacali, mentre noi qua le persone che abbiamo le paghiamo, è questo il paradosso, poi mi vengono a parlare a me di commissione con le aziende, cioè a voi l'azienda vi paga pure le persone che avete lavoro a Piazza Bettole e mi venite a parlare di commissione quando io sono il primo a stare in cassa integrazione per fare quello che devo fare, cioè sta cosa come dire è assurda e paradossale, quindi io dico è meglio che facciamo, non diciamo stupitaggini, poi ho capito che io gli auguro di diventare la prima organizzazione, però non è che mi devono venire a raccontare che loro, anche perché la gente vede, non è stupida, diciamo che negli ultimi mesi diversi lavoratori ci hanno chiesto, dice fra ma come che voi scrivete contro Arserole Mittal e un attimo dopo esce il volantino della CISL tutto a posto, cioè noi scriviamo guarda che lì lietro filtri, poi escono loro tutto a posto. Altro che commissione. Altro che commissione, sì lo dico, altro che commissione, è anche quasi. Forse inversa. Non voglio fare insinuazioni, però dobbiamo dire la verità e diciamo la verità che quando siamo andati sopra dopo la scelta degli 8200, tre organizzazioni si sono lamentate, FIOM, Wilm e USB, la CISL non ha detto una parola e probabilmente per loro è stato fatto tutto nella maniera giusta, ma io lo capisco, perché il paradosso sai qual è anche qua in questi mesi in cui ci siamo buttati a capofitto su questa situazione, noi diciamo due conti ce li siamo fatti. Allora la matematica non è un'opinione, su grandi numeri è difficile sbagliare, però abbiamo notato una cosa, abbiamo notato che al netto degli iscritti che c'erano al sindacato prima, mi limito a dire che, e ti faccio, te lo scrivo alla lavagna così lo capisco anche chi ci ascolta. Allora, la Wilm ha perso quasi un migliaio di iscritti, quindi fatti 100 gli iscritti della Wilm, il 35% di questi, praticamente, allora se tu stavi in una lista di 100 persone eri iscritti della Wilm, avevi il 35% di possibilità di stare fuori. Idem, nel 100 per USB e FIOM. Allora, tieni presente che il taglio del personale è pari al 27%, quindi è chiaro che c'è una discrepanza già di 8 punti che calcolate su 10.000 persone, come dire, è strana sta cosa, sennò però dici, vabbè, può capitare, magari gli iscritti della Wilm, della FIOM e dell'USB avevano tutti questa caratteristica e quelli della CISL invece sono al 15%. Cioè tu, fatte 100 su 100 persone, se all'interno di quelle 100 c'era un iscritto alla CISL aveva solamente il 15% di possibilità di andare a casa, questi sono numeri. La matematica non è un'opinione. È matematica, io non sto insinuando nulla, però dico che è molto strana sta cosa, no? Poi se si viene a sapere che tutti, come dire, gli incontri con i vari dirigenti che hanno deciso sono stati fatti in presenza del dirigente della FIOM e CISL che è anche quadro aziendale, eh, non lo so, forse qualche ragionamento strano me lo incomincio a fare pure io. Rispetto alle cose che ho detto, rispetto a quell'episodio, come dire, del Consiglio di fabbrica e della trattativa in cui Calenda disse a Bentivoglio quello che vi ho detto prima. Guardate, se io ho mentito, lo dico agli amici della FIOM e CISL, querelatemi. Come testimoni vi anticipo già che metterò nel primo caso, sul fatto del comunicato in cui non si poteva scrivere il nome al Giobbac, Pallini e Brigati, che non mi sembra che siano amici miei. Sulla questione del Ministero vi dico un po' di più, ci metto Maurizio Landini che era presente, Francesca Reddavid, segretario della Nazione della FIOM, che era presente, Ciccio Brigati che era presente, Rocco Palombella che era presente, Antonio Dallò che era presente, Piero Pallini che era presente. Non metterò testimoni dell'USB perché potrebbero essere di parte. Quindi se io ho mentito, querelatemi. Poi però non fate come l'altra volta, perché io ho già avuto una guerriera dalla FIOM e CISL. Io ho avuto una guerriera perché feci un volantino, dopo che loro fecero un gioco di parole brutto a seguito della morte di Torricella su un falso articolo, un articolo sbagliato da parte della Repubblica, che riportava dichiarazioni che non erano mie, ma le riportava come se avessi detto io quelle cose. Loro fecero dei post su Facebook, praticamente, vabbè, apostofandoci in tante maniere. Io feci un volantino che ha appesi in officina carpenteria in cui definì il segretario della FIOM e CISL, Valerio Dallò, il tappetino del padrone. Mi ha fatto causa, siamo andati davanti al giudice e il giudice ha detto, cioè io sono stato prosciolto, ha detto sostanzialmente che non è reato chiamare il segretario della FIOM e CISL di Taranto tappetino del padrone. Inteso come diritto di critica? Come diritto di critica. Già dovrebbe apprezzare il fatto che io sta cosa la sono ottenuta per me e non. Però se domani, come dire, è questa la logica, non ci sono problemi. Se volete questo tipo di rapporto non ci sono problemi, lo facciamo. Poi però, ecco, diciamo pure questo, l'avvocato non lo sono dovuto pagare io. Il paradosso è questo, perché querelano, poi non hanno manco, mi sono andato a pagare io l'avvocato che mi ha dovuto difendere, però loro fanno così. Pensano di essere, come dire, il meglio del meglio, quando in realtà probabilmente farebbero bene, veramente bene a stare zitti. Rizzo, nei giorni scorsi, sabato, mi pare, avete incontrato una delegazione di deputati del Movimento 5 Stelle. 5 Stelle sono una forza di governo, l'onorevole Ermellino e l'onorevole Vianello. Che tematiche avete affrontato? Senti, noi abbiamo parlato, siamo stati praticamente cinque ore a discutere, anzi, vi ringrazio dalla disponibilità, abbiamo affrontato una serie di temi, fra cui la questione dell'amianto, uno dei problemi, come dire, giganteschi che abbiamo all'interno della fabbrica. Ci siamo ripromessi di inviarli stretto giro di poste, in una quindicina di giorni, tutte le denunce con le prove fotografiche che abbiamo fatto negli anni sulla questione amianto. Poi, diciamo che l'intento dal nostro punto di vista era questo. Cioè, non siamo in una condizione di poter dire che i lavoratori che lavorano all'Ilva possono lavorare 42 anni, perché non ci arrivano a lavorare 42 anni in quella fabbrica, ma non perché lo dico io, perché mi voglio fare bello, perché sto facendo una campagna elettorale, perché è la verità, quella è siderurgia pesante. Cioè, tu lì hai a che fare con tutto il peggio del peggio dal punto di vista degli agenti cancerogeni. E diciamo che già sei fortunato si arrivi in pensione. Il paradosso è fare 42 anni all'interno di una fabbrica di quel tipo a me sembra assurdo, soprattutto per coloro che stanno, come dire, che avevano le condizioni che viviamo noi all'Iva di Taranto. Ma il punto qual è? Dire a loro, guarda, abbiamo 4 mila tonnellate di amianto, abbiamo situazioni di amianto, come dire, come è successo l'altro giorno con una denuncia che abbiamo fatta all'AFF, abbiamo la non applicazione della legge, perché la legge in presenza di amianto, diciamo che è sbriciolato, che può essere inalato dal personale, prevede l'allontanamento, contro l'evacuazione, cose che lo dicono se mai fatta, se non, come dire, a breve distanza. E poi lì abbiamo posto il problema del lavoro usurante. Ci abbiamo detto, guarda che è assurdo, cioè la siderurgia è usurante, perché tu solo a stare là dentro, le fonti di calore, tu comunque hai un contraccolpo fisico pesante. Quindi abbiamo ragionato su questo, perché dal nostro punto di vista abbiamo ricordato che noi avevamo portato 3 mila firme all'ex governo PD chiedendo praticamente il riconoscimento del beneficio amianto per i lavoratori dell'ILVA, perché secondo noi sarebbe una delle cose giuste da fare, tra l'altro, come dire, è accertato, là dentro noi lavoriamo in quelle condizioni, quindi non ci stiamo inventando nulla di che. E niente, abbiamo parlato di questo e poi abbiamo fatto un focus sulle assunzioni, ci hanno chiesto cosa è successo, noi li abbiamo, come dire, c'è spiegato tutto, gli abbiamo fatto vedere anche alcune cose, ma poi la sentenza del giudice parla chiaro, la sentenza del giudice dice che non c'è stata trasparenza, c'è stata discrezionalità, ecco perché poi indico alla femminilità, noi abbiamo fatto valere sul tavolo, ma se lo dice il giudice è vero che è paradossale che quasi quasi come dire la sentenza del giudice non conti più nulla, è come se è Franco Rizzo che si è alzato la mattina e si è scritto, c'è una sentenza che parla chiaro, il giudice ha fatto una domanda, dice scusate ma se non avete fatto le classifiche, come avete scelto il personale? Gilo, nessuno parlava, cioè nella causa l'abbiamo vinto perché l'azienda è venuta là e non sapeva a che rispondere alle domande che sono state poste, però al netto di tutto ciò con i 5 Stelle c'è stato anche il ragionamento sui lavoratori Vinaessi, perché lì il Presidente della Regione ha dato disponibilità a stanziare i fondi per l'integrazione salariale, modello Genova, accordo di programma di Genova, quindi a un certo punto ha posto pubblicamente un problema, dice guarda io per fare un'operazione di questo tipo ho bisogno che il governo mi faccia un piccolo decretino che mi autorizzi a fare questa operazione, noi ieri abbiamo invitati i parlamentari anche e soprattutto per dire scusate ma vi attivate su sta cosa qui? Infatti anche da questo punto di vista gli manderemo lo schema che noi ci siamo studiati, la proposta nostra, cioè quella di integrare per lavori di pubblica utilità, per mettere le condizioni anche a chi sta fuori di poter percepire uno stipendio per intero, ecco lo dico così, se uno mi dice ma qual è lo slogan dell'USB in campagna elettorale, le promesse, le cose, noi abbiamo al primo punto, la prima cosa che faremo se la gente ci dà la possibilità di votare, la prima cosa che faremo è tentare con tutte le nostre forze di far rientrare quanta più gente possibile all'interno di quella fabbrica, poi apre chiudo Parenzi pure qua si gioca con le parole, c'è qualcuno che promette, io non ho mai promesso il reintegro a nessuno, c'è una sentenza che parla chiaro, sono stato lecito, ho detto, scusate l'ho detto pubblicamente, noi siamo disponibili a fare un accordo per tenere dentro quelli che hanno l'esigenza, stanno reclamando la Sagra Santa esigenza di rientrare dentro, c'è casi eccezionali e mi dà fastidio quando parla di commissione, soprattutto quando chi parla di commissione, perché la CES le dimentica questo, non lo voglio dire ma non voglio sfottare nessuno, io per far rientrare Anthony Antico, che mi scusi se lo sto nominando, sono stato un anno a sbattere tutti i giorni a parlare col capo del personale dell'ILVA, allora Cosimo Liorgo e Michelo Onorato erano i due responsabili e il giorno che l'hanno chiamato a farlo rientrare, Anthony Antico è un ragazzo che ha avuto un tumore al cervello, è stato fuori praticamente per quasi un anno in cassa integrazione perché non avevano posto per ricolocarlo, io ho dovuto minacciare in direzione di uscire sui giornali, di sputtanare quanto stava accadendo perché era vergognoso che un lavoratore che stava vivendo quella condizione fosse trattato in quella maniera, non sono il sindacalista o non sono il sindacato, non siamo il sindacato che prende le persone in un minuto e le trasferisce da un reparto dell'aria a caldo giù ai trasporti, non me ne voglia anche questo lavoratore a cui voglio bene, quella cosa è stata fatta in un minuto, che è una cosa, ecco io ne ho viste tante di cose assurde all'Ilva, però quella cosa è stata fatta e questo è uno dei piccolissimi esempi che posso fare rispetto alla commissione reale, ma vabbè lì nel caso della CISL non c'è commissione, sono la stessa cosa, loro e Ars sono la stessa cosa, tanto è vero, lo dico e non me ne vogliono i delegati della CISL, quelli che rispetto, cambiate il logo che scrivete, anzi lo dico, chi vota per la CISL vota il padrone, chi vota per l'USB sta facendo il tifo per i lavoratori che stanno fuori, stop, poi fate quello che volete, io i lavoratori li avviso, però incominciate a dire la verità pure a voi, che vi riempite la bocca con Ars e Lor Mittal che non ha fatto nulla fino adesso a Taranto, dite la verità, perché la gente all'interno della fabbrica le vede queste cose, ed evitate di fare quei volantini, lancio, fatto, questo e quell'altro, o di dire sulla storia dei tubifici, dei lavoratori, perché pure là ci abbiamo tanto da dire, perché accusano indistintamente come se loro sono gli unici nella fase trattativa, guardi posso dire una cosa, io ho vissuto, ho fatto tutti gli incontri della trattativa, io ho vissuto 18 mesi di trattativa in cui tre organizzazioni si facevano il culo a tentare di migliorare la condizione e c'era un quarto soggetto, Marco Bentivogli, che sparava a zero contro l'organizzazione sindacale, questa è Avrata, diciamocela, questa è la verità, tentava sempre di spaccare, e oggi la FIMCISL che mi viene a parlare di sindacato, che dice la verità ai lavoratori, beh, vabbè, mi fermo qua e non dico altre cose, noi stiamo per i fatti nostri, non ci pensate, fatevi la vostra elezione, fatevi votare, se la gente si vuole suicidare si suicida, votate la FIMCISL, il resto che si vuole salvare, come dire, sa dove deve votare. Anche perché c'è una sentenza, quella che avete vinto, che è la prova provata della difesa dei lavoratori. Sì, c'è un giudice, cioè non l'ho detto io, loro poi mi scrivono, dicono noi abbiamo fatto sempre l'azione sindacale, e ce l'hanno fatto loro. Vabbè, loro non ci avevano da lamentarsi, è chiaro, tutti i lavoratori loro stavano tutti dentro, si sono gestiti, perché la CISL esce con la lista dei candidati già pronta, il giorno dopo, poi mi vengono a parlare a me di commissione semplicemente perché ho preso le difese dei lavoratori che sono ammalati, che stanno ancora fuori, un sacco di quei lavoratori stanno fuori, e altri lavoratori che stanno dentro che vorrebbero stare fuori perché hanno una condizione di salute grave, abbiamo casi, come dire, anche gravi, abbiamo un altro lavoratore dell'AF a cui è stata riscontrata la leucemia, e io non avevo parlato di questi casi, e la FEM si è fatta rispettare al tavolo, mancano, per legge devono assumere 560 lavoratori con categoria protetta, io gliel'ho detto prima d'Arcelor Mittal, gli abbiamo pure scritto la lettera, ci stanno 560 lavoratori con categoria protetta all'interno della fabbrica, ci stanno? Secondo me non ci stanno, non ce l'ho manco risposto, quindi bisogna spiegare che in Italia ci sono le leggi e tutti devono applicare quelle leggi, quindi questo è tutto il ragionamento. Ecco, siccome poi alla fine tutta sta storia è iniziata, lo ribadisco, dal fatto che noi stiamo tranquilli per i fatti nostri, per loro dicono bisogna dire la verità, quindi diciamo la verità una volta per tutti, se voti per l'USB stai facendo il tifo per i tuoi colleghi che stanno fuori, se voti per Arcelor Mittal, Italia, FEM, CIS, l'SPA, che sono la stessa cosa, stai votando per il padrone. I lavoratori devono essere consapevoli di questo, io non dico nient'altro.